Ehi, prova col server di Singapore Ah, lo prendo a pugni Che è successo? Cerchiamo di trovare il lato poi con Il... Lancia missili, ok C'è uno di questi, ma qual'è? Questo! Ma unire contro l'osso direttamente così? No, però Fatemi almeno combattere Questo, comunque, è il primo Cyberdemona Si Che troviamo Ed è anche l'unico in Doom 1, forse Si, e sono già a 36% di vita Eh? Sono a 36% di vita e non ho ancora visto il Cyberdemona Uh, ci sono un sacco di munizioni di qua Uh, sono stramorto Perchè metti gli articoli prima dei nomi? Si chiama Cyberdemona Non ho ancora visto Cyberdemona Il No Cyberdemona Il suo nome Cyber è il nome Demona è il tuo nome Parla su un sacco di cose per rompere le palle Ma è bella che sta combattendo contro una l'osso Ma che cosa? Scacciare mosche? Che incontro epico Eh, si sta incazzando Stai dietro i pilastri Si sta incazzando Doppio Doppio Mi hai fatto il dito medio Guarda No Che già ha cominciato a sparare velocemente Metti che accelera ancora E per questo è che è sparare velocemente Te l'avevo pure detto a non fare il dito medio del Cyberdemone Perché non mi sta facendo niente di male, guarda Ha cominciato a sparare velocemente Ma sennò mi sta neanche prendendo Eh, però il problema è che basta il colpo che ti prende e sei morto Ah Oh, minchia l'esplosione Va bene Il fermo immagine Ok, questa è stata una battaglia Ok, aspetta che cambio mappa